Buonasera, benvenuti alla festa di Ploaghe, la festa di Ferragosto organizzata dall'amministrazione comunale dove il gruppo di Ploaghe sarà protagonista e condurrà tutti gli ospiti presenti in questa serata. Facciamoci un applauso per riscaldare un po' la piazza, anche un pochettino di più. Benvenuti, buonasera, io sono Emanuele Garavo e sono molto contento stasera di festeggiare il Ferragosto in vostra compagnia. L'amministrazione comunale che ha organizzato la serata nell'ambito del Ferragosto Ploaghese insieme alla Proloco di Ploaghe e alle associazioni Salvatore Manca e Pizzinus de Sardinia ogni anno perpetuano questa tradizione della serata di Ferragosto dedicata alla tradizione popolare. Io chiamerei immediatamente i padroni di casa, i componenti del gruppo dell'associazione Salvatore Manca di Ploaghe che aprirà questa festa dedicata ai balli della nostra tradizione. Saranno accompagnati da un giovane organitista di Ploaghe, penso lo conosciate tutti e regaliamo un applauso all'Antonio Pirastro, buonasera, ciao! Ma si proporranno a voi inizialmente con due balli del suo repertorio ma che attengono e appartengono alla tradizione popolare di Ploaghe. Apriranno con Suballudundu e poi con il ballo che vi appartiene in esclusiva, ossia Dirighegnubintu, questa danza invidiata da tanti che soltanto a Ploaghe si balla. E allora facciamo un applauso per i componenti dell'associazione Salvatore Manca di Ploaghe che apre questa festa di Ferragosto con Suballudundu, accompagnati da Antonio Pirastro. A voi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!